Buongiorno e bentrovati alla nostra consueta rassegna stampa del mattino. Vediamo insieme quello che ci raccontano i giornali per questo sabato 21 maggio. Partiamo da una vicenda ormai nota, quella che riguarda anche alcuni marchigiani, la tragedia che si è consumata la scorsa serata di mercoledì in Adriatico, cinque morti indagati il comandante e l'almatore del Franco P. Queste sono appunto le ultime notizie che riguardano la vicenda. L'ufficiale del pontone racconta che imbarcavano tanta acqua, non hanno fatto in tempo a salvarsi. Ho dato io l'allarme, ho detto io ai ragazzi di buttarsi in acqua, non ce l'hanno fatta, sono andati giù. Se avessero indossato i giubbotti si sarebbero salvati tutti ma non ci sono riusciti perché la cosa è stata troppo rapida. E adesso si dovrà capire perché è stata così rapida. Questo è appunto Carmelo Sciascia, il comandante del pontone AD3, che ha assistito impotente al naufragio del rimorchiatore Franco P, a cui la piattaforma con a bordo 11 persone era agganciata. Erano le 20.51 di mercoledì quando ha lanciato il Mayday. Hanno imbarcato acqua così rapidamente che l'imbarcazione non ce l'ha fatta mantenere la linea di galeggiamento. E' andata giù a picco, ha raccontato ai cronisti, prima di essere ascoltato dalla capitaneria di porto di Bari. Ho visto tutto e niente, ha proseguito il comandante, è stato preso da una nave che ho chiamato io per avvicinarsi e recuperarlo perché vedevamo una lucetta, quella del giubbotto, che si accende a contatto con l'acqua. Tutti gli altri membri dell'equipaggio invece non avrebbero fatto in tempo a indossare il dispositivo né a salire sulla scialuppa di salvataggio a bordo della quale c'era solo il comandante. Le cattive condizioni meteomarine c'entrano fino a un certo punto, ha spiegato Sciascia. Sì, il mare c'era, tre metri e mezzo di nord-est e vento, ma non è quella a parere del 67enne Siracusano. La causa del disastro avvenuto a 53 miglia a largo di Bari, in cui hanno perso la vita gli anconetani Luciano Bigoni e Andrea Massimo Loi e il tunisino Hamed Gelali, mentre i molfettani Mauro Mongelli e Sergio Buffo non sono stati ancora ritrovati. Ma ormai è chiaro che le vittime del naufragio sono cinque. Le ricerche dei due dispersi proseguono. Stiamo largando il raggio per eventuali derive dei corpi. Questo è l'aggiornamento dell'ammiraio Vincenzo Leone, comandante della Guardia Costiera Puglia. Non possiamo escludere che siano rimasti intrappolati nel rimorchiatore colato a picco in un tratto diadeatrico profondo mille metri. Con l'occasione è stato notificato anche un avviso di garanzia, come dicevamo in apertura, un avviso di garanzia al 63enne catanese che è appunto il comandante, ossia l'unico superstite di questo naufragio. Uno degli indagati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bari sull'affondamento del Franco P. L'altro invece è l'armatore romano Antonio Santini, 79 anni, residente ad Ancuna, legale rappresentante dell'ILMA, proprietaria sia di rimorchiatore sia del pontone. Quindi queste sono le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti che riguardano la vicenda, ma chiaramente a fronte di questo ci sono anche le tante testimonianze, le tante testimonianze e ovviamente anche il dolore dei familiari e di chi conosceva queste persone. Allora andiamo a leggere anche questo, innanzitutto partendo proprio dal dolore dei familiari di una delle vittime anconetane, Luciano Bigoni, lo strazio dei familiari, vogliamo giustizia per Luciano, riconosciuta la salma del marittimo di origini civitanovesi. I familiari sono distrutti, chiedono giustizia e sono anche molto scioccati. Devo dire che tutta questa assistenza da parte di chi non avrebbe dovuto fornirla, e non parlo solo dello Stato ma anche dei privati, non mi pare ci sia stata. Queste sono le parole dell'avvocato Antonio Vito Boccia che assiste con il collega Antonio Cosentino, la moglie e le figlie del 65enne, Luciano Bigoni, una delle tre vittime appunto accertate del naufragio del rimorchiatore. Bigoni era nato a Civitanova dove vivono ancora molti suoi parenti ma si era trasferito ad Ancona. Qui poi aveva fatto per diversi anni, era stato pescatore e poi appunto la decisione però di vendere la sua attività e di appunto imbarcarsi in quest'altro genere di attività. Per quello che riguarda ovviamente le indagini, il timore, ha aggiunto l'avvocato Boccia parlando dell'indagine penale sul naufragio, era che il procedimento potesse essere trasferito fuori dall'Italia perché il naufragio pare che sia avvenuto in acque contigue a quelle marittime della Croazia. Quindi sapere che la procura di Bari si è ritenuta competente ci dà almeno la certezza che il procedimento inizierà. Queste dunque le parole del legale dei familiari ma come dicevamo non c'è solo questa vittima per quello che riguarda ovviamente i marchigiani i marchigiani in questo caso di adozione che si trovavano nel rimorchiatore Andrea Animo Nobile ha ospitato i profughi prima del viaggio fatale Loi aveva accolto nella sua casa i parenti della moglie ucraina in fuga dalle bombe Mandracchio sotto shock, la figlia di Bigoni non abbiamo la forza per rispondere e appunto dicevamo marchigiano d'adozione perché Andrea Massimo Loio aveva lasciato la sua Sardegna da giovane in cerca di fortuna prima a Bari poi ad Ancona nella sua terra aveva appreso la tradizione marinaresca per poi metterla a frutto partendo per il continente 30 anni fa era un uomo di mare stimato da tutti racconta Massimo Cannas, sindaco di Tortolì Andrea era un lavoratore infaticabile e un uomo generoso al Mandracchio dove un velo nero invisibile offusca il sole abbagliante lo conoscevano tutti viveva a Torrette con la moglie ucraina dopo lo scoppio della guerra aveva accolto in casa la figlia di lei e altri parenti in fuga dalle bombe quindi dunque questa è anche la cronaca appunto per chi per chi conosceva queste persone per chi ora chiaramente leggevamo chiede anche giustizia e soprattutto vuole sapere che cosa effettivamente sia accaduto ossia che cosa abbia causato il naufragio ma andiamo avanti e restiamo sulla crona che leggiamo quest'altra notizia muratore ubriaco alla guida di un furgone in vesti uccide un motociclista di 33 anni in tasso alcolamico 6 volte superiore al limite di legge era stato a mangiare una pizza in compagnia di un amico e si era messo in sella alla sua moto per tornare a Castel di Lama Federico Pietracci non poteva sapere che sarebbero andati incontro alla morte per colpa di un automobilista ubriaco la sua vita è stata stroncata 33 anni a seguito di un frontale con un furgone avvenuto prima della mezzanotte sulla salaria nei pressi dell'ex villaggio del fanciullo a Campolungo nello schianto il centauro è stato sbalzato di selle dopo un volo di una decina di metri è finito nella scarpata oltrepassando anche la pista ciclabile che corre parallela alla salaria è morto sul colpo il personale del 118 è giunto sul posto pochi minuti dopo l'incidente ha potuto solo constatare appunto il decesso del centauro è stato invece messo agli arresti domiciliari l'operaio Edile di 45 anni del Foggiano che era alla guida del furgone che insieme a tre colleghi di un'impresa Edile Campana dopo aver trascorso la serata in un locale stavano tornando nel loro alloggio in una frazione alle porte di Ascoli a seguito dei controlli a cui è stato sottoposto subito dopo lo schianto il conducente del mezzo è risultato positivo all'alcol test che avrebbe rivelato la presenza di alcol nel sangue di un valore di oltre sei volte superiore al consentito portato in caserma è stato ascoltato dai carabinieri che poi hanno provveduto ad arrestarlo queste dunque le notizie che ci arrivano dalla cronaca ce n'è un ultimo un ultimo aggiornamento in questo caso riguarda una vicenda che risale a qualche anno fa al 2020 per la precisione l'omicidio di Michele Martedì massacrato con dieci coltellate dall'ex compagno di scuola l'omicidio del Pinocchio appunto perché i drammatici fatti si sono consumati in questo quartiere di Ancona un disturbo delirante paranoide che aveva raggiunto il suo culmine nella mattina dell'8 dicembre 2020 Mattia Rossetti uccise Michele Martedì mentre non aveva alcuna capacità di intendere sono queste dunque in estrema sintesi appunto parlavamo degli aggiornamenti le risultanze della perizia super patta essere dato dallo psichiatra bolognese Renato Ariatti e dallo psicologo padovano Marco Samori dopo aver scandagliato la mente del 27enne Anconetano accusato e ha confesso dell'omicidio del parrucchiere suo ex compagno di scuola accoltellato più di dieci volte in via Maggini mentre tornava a casa col cane nel giorno dell'immacolata ieri mattina dall'avanti alla corte d'assise i due professionisti hanno definito lo status psichico dell'imputato già noto prima del delitto al centro di salute mentale di Ancona per quanto riguarda la diagnosi Rossetti sarebbe affetto da un disturbo delirante e paranoide che negli anni non avrebbe avuto un andamento granitico lineare ma fluttuante nel 2018 aveva avuto una fase acuta della malattia poi con i farmaci e i deliri si sono attenuati e poi nell'ultimo anno prima dell'omicidio sono di nuovo aumentati hanno detto i due professionisti per spiegare il quadro psichiatrico del 27enne presente a tutte le udienze questi dunque gli ultimi aggiornamenti ma adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di lavoro perché ci sono delle novità per quello che riguarda una vicenda di cui vi avevamo già parlato in altre occasioni in altre edizioni ed è quella che riguarda il possibile creazione di un centro logistico di Amazon all'interporto di Iesi allora vediamo le novità che ci sono in questo caso ora accelerano le trattative tra Scannell e Interporto Amazon guarda e ci pensa il presidente Stronati conferma ha sfumato definitivamente il progetto del polo logistico manovre per firmare il contratto da 6 milioni e sperare in un ripensamento per il 2024 dunque questi vediamo sono gli ultimi aggiornamenti ma andiamo a leggere meglio effettivamente cosa è successo una notizia buona e una cattiva partiamo dalla cattiva il progetto del polo logistico da 66.000 metri quadrati targato Amazon da realizzare nell'area dell'interporto di Iesi non si farà nel 2023 ormai ufficiale ed è a certificare la pietra tombale sul prossimo anno il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di interporto Massimo Stronati che ieri ha ricostruito la vicenda di fronte alle commissioni seconda e terza del consiglio regionale per ora la multinazionale americana preferisce restare alla finestra cercando di vedere se tutti i tasselli si metteranno al loro posto e se solo a quel punto sia il caso di confermare l'interesse sulla bassa vallesina ma comunque non prima del 2024 in questo scenario molto opaco si innesa però la buona notizia Scannell il general contractor del colosso dell'e-commerce ed interporto stanno portando avanti le trattative per chiudere il contratto da 6 milioni di euro per la cessione dei diritti edificatori fonti vicine a Scannell fanno infatti sapere che si sta lavorando alla cremente con un team tecnico legale e dentro luglio si capirà se la partita potrà ancora essere giocata nel frattempo salvo ulteriori colpi di scena il 23 giugno dovrebbe chiudersi l'iter amministrativo con l'approvazione definitiva della variante da parte del comune di Iesi le variabili in campo sono tante ma stronati si dice molto fiducioso interporto Marche confida di poter arrivare entro breve tempo alla profica o a conclusione dei contatti procedendo con la medesima determinazione e sollecitudine che sono state impiegate unitamente al comune di Iesi per giungere alla riattivazione delle procedure urbanistiche che possano consentire di accogliere Amazon e valorizzare così il nostro territorio aggiusta così il tiro rispetto a quanto avrebbe detto nell'audizione congiunta delle commissioni consigliari riportato dai consiglieri DEM in merito al trasferimento del polo logistico a Valencia e dal ridimensionamento dell'eventuale progetto da realizzare nello Iesino Scannell vuole riaprire le trattative con Amazon e ha detto che ci sono buoni presupposti il progetto che dovevano fare da noi nel 2023 verrà realizzato da un'altra parte ma stiamo lavorando per portare a casa il polo logistico nel 2024 quindi questo è quello che riguarda gli ultimi aggiornamenti aggiornamenti su cui non ha mancato di esprimersi anche il primo cittadino di Iesi che per quello che riguarda la lentezza anche dei procedimenti che hanno riguardato il polo logistico si è spesso esposto ed espresso anche in maniera piuttosto dura e allora leggiamo insieme le sue parole sul resto del Carlino non capisco dice di cosa ci si stupisca la Spagna non toglie nulla a Iesi il sindaco Batistronati ha ricordato quello che tutti sapevano ovvero l'approvazione di una variante cosa che il comune ha fatto e interporto ora si sta confrontando con Scannell le cose non cambiano Valencia appunto dicevamo non toglie nulla a Iesi se l'iter avviato con la variante non incontrerà in top Iesi sarà di nuovo competitiva per Amazon che potrebbe realizzare qui il polo logistico nel 2024 il sindaco Massimo Bacci dunque non si scompone anzi sembra ottimista non capisco continua intervistato dal giornalista non capisco di cosa ci si stia stupendo le parole del presidente di Interporto Marche non cambiano di una virgola quanto raccontato fino ad oggi e stupisce la strumentalizzazione politica di chi non sa non conosce e addirittura sembra gioire per l'eventuale danno che ricadrebbe sull'occupazione e sul nostro territorio in realtà Stronati ha semplicemente ricordato quello che tutti già sapevano e di cui era stato scritto a lungo e cioè che il 31 gennaio 2022 era scaduto il contratto che legava Scannell ad Amazon per la realizzazione del lab di Iesi e che la stessa Amazon riteneva comunque il sito di Iesi di Primario interesse ma ad una sola condizione che fosse stata approvata la variante urbanistica entro fine giugno condizione che il Comune ha concretizzato il 4 maggio grazie al fatto che in appena tre giorni il nuovo CDA di Interporto era riuscito a decidere ciò che il precedente nominato dall'esecutivo regionale a guida PD non era stato capace di completare in un anno e mezzo queste dunque le parole del sindaco Massimo Bacci sulla vicenda poi vedremo effettivamente come si evolverà quali saranno non mancheremo ovviamente di raccontarvi quelli che saranno i futuri sviluppi della situazione ma nel frattempo andiamo avanti andiamo avanti e continuiamo a vedere quelle che sono le notizie le notizie che riguardano le marche e che in qualche modo sono legate in questo caso specifico anche alla situazione contingente che si sta verificando in Ucraina e che ovviamente ha ripercussioni non solo in Italia ma in tutto il mondo e allora leggiamo transizione digitale ristoria le aziende la confartigianato più aiuti dai bandi piccole imprese colpite dalla guerra nuove ricette per combattere le conseguenze delle sanzioni confartigianato imprese ha fatto il punto sulla situazione in un confronto online Camera Commercio Marche e Regione hanno detto ciò che è stato fatto confartigianato ciò che bisognerebbe fare in particolare il presidente di Camera Commercio Marche Gino Sabatini ha ricordato i 3 milioni stanziati con la Regione per un fondo di liquidità Stefania Bussoletti dirigente della Regione ha elencato le varie misure prese potenziamento dei voucher per agevolare la partecipazione delle imprese alle fiere i bandi attivi per la transizione digitale e per la diversificazione dei mercati i bandi di prossima uscita sulla liquidità e sui ristori ma molto deve essere ancora fatto in particolare dal governo Moira Maranti presidente regionale di confartigianato Moda ha riportato a galla il problema di quelle aziende che hanno consegnato la merce in Russia prima delle sanzioni e che ora si trovano gli incassi bloccati appunto dalle sanzioni stesse a proposito di realtà imprenditoriali marchigiane più colpite ovviamente da quanto sta accadendo lo leggiamo Moda e crisi russo ucraina aiutate le nostre imprese appunto la civita danovese amaranti merci consegnata lo dicevamo prima incassi bloccati dalle sanzioni pressing per la modifica del decreto aiuti interventi a misura di micro aziende e questo ovviamente è quello che dunque sta accadendo in particolare appunto lo dicevamo bisogna bisogna soprattutto intervenire sì per aiutare quelli che sono i settori più colpiti tra cui appunto anche quello della moda dunque questi gli ultimi aggiornamenti che riguardano la situazione ucraina andiamo avanti però per vedere anche quelle che sono le altre notizie che ci arrivano dal territorio alcune ci arrivano proprio sempre dal dal fronte diciamo così dal fronte delle notizie che riguardano l'Ucraina questa in particolare ci arriva dalla provincia di Pesaro perché tra i sanitari che negli ultimi due anni hanno combattuto il covid ci sono anche coloro che scelgono di combattere un'altra battaglia appunto di andare in Ucraina come la storia raccontata appunto dal resto del carino di Alessia Gaudenzi 36 anni a capo del reparto di rianimazione del treno ambulanza di medici senza frontiere in Ucraina ho preso l'aspettativa non retribuita per le missioni volontarie racconta la donna sono arrivata a Leopoli il 2 maggio rimarrò fino a metà giugno dal 2018 lavoro in maniera discontinua con medici senza frontiere a seconda delle esigenze ti mandano nei luoghi con un processo di reclutamento siamo operatori sanitari in particolare la donna che al momento si trova a Leopoli come racconta ha una base qui dice abbiamo la base il treno medicalizzato permette di arrivare a più di di mille chilometri est del paese ovvero sulla linea del fronte vicino al Donbass in città come Kharkiv e Dnipro dal 31 marzo il vecchio treno ucraino è attivo e Medici Senza Frontiere ha deciso di trasformarlo in una clinica mobile riceviamo pazienti da tutti gli ospedali vicini alla linea del fronte ci sono persone amputate o plurifratturate a seguito di un'esplosione o con danni da schiacciamento tra le macerie sono per lo più giovani ma anche anziani con patologie croniche che non possono più rimanere negli ospedali il tutto viene fatto in collaborazione con il ministero della salute ucraina una volta tornati a Leopoli i pazienti vengono poi smistati questo dunque è quello che racconta l'infermiera marchigiana che sta lavorando appunto nel fronte ucraino per portare assistenza alla popolazione ma restiamo nel pesarese le notizie che ci arrivano dal pesarese si va verso l'estate quindi la chiusura in alcuni casi delle scuole ma comunque l'assistenza soprattutto per i più piccoli che deve continuare e allora nidi estivi un flop 110 bambini esclusi dalla graduatoria l'uscita degli esiti delle graduatorie del comune per il servizio del nido estivo il comune di Pesaro ieri ha raggelato decine e decine di famiglie pesaresi che sono rimaste fuori oltre 100 famiglie sono state escluse parliamo di numeri importanti almeno la metà puntualizzano i consiglieri comunali di centrodestra Giulia Marchionni e Dario Andreoli scorrendo le graduatorie sono circa 120 le famiglie che potranno usufruire del servizio per i bambini tra gli 0 e i 3 anni ma 110 non sono riusciti ad entrare in pratica a disposizione ci sono solo tre strutture del comune che offrono 40 posti a testa il calcolo torna presto sui centri estivi commentano Marchionni e Andreoli a nome dell'opposizione purtroppo è accaduto ciò che avevamo ampiamente annunciato a dimostrazione che le nostre osservazioni non erano strumentali oltre un centinaio di famiglie escluse dai nidi dai centri estivi le scelte fatte si sono rivelate sbagliate in questi mesi proseguono dopo un intenso confronto con tante famiglie abbiamo avuto certezza di quella che è una necessità reale non è pensabile che i servizi educativi comunali soprattutto quelli dedicati ai più piccoli si interrompano con il mese di giugno avevamo lanciato il grido di tante famiglie che si sarebbero trovate escluse dai servizi educativi estivi pensare di aprire un nido in meno in città ha determinato il risultato che abbiamo cercato di scongiurare nelle scorse settimane ma che oggi purtroppo vediamo ben evidenziato nelle graduatorie questo dunque è il commento dei consiglieri comunali dell'opposizione ma andiamo avanti e vediamo quelle che sono le altre notizie che ci arrivano dai giornali in particolare per quello che riguarda per quello che riguarda sempre la questione del turismo questa è una notizia che ovviamente arriva e che riguarda tutta la regione il governo incempa sulle aste acquaroli evitare una deriva che metterà in crisi il turismo il precedente della regione sull'impasse romana creata dalla questione Bolkestein ma il futuro del paese si gioca in queste ore queste le parole di Capacchione della Sibconf Commercio e allora corsie preferenziale per gli attuali gestori oppure un indennizio per ristorarli degli investimenti che hanno prodotto in tutti questi anni per dirla alla maniera del ministro per il sud della coesione territoriale Mara Carfagna intervenuta alla convention napoletana di Forza Italia sui balneari credo che il punto di mediazione raggiunto sia il migliore possibile eppure la vicenda Bolkestein è diventata per il governo un tasto delicatissimo per la politica soprattutto per le possibili ricadute elettorali alle amministrative del 12 giugno a tal punto che nelle scorse ore il premier Draghi ha scritto una lettera al presidente del senato Elisabetta Casellati per stringere sui tempi e non mettere a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del PNRR perché nonostante le rassicurazioni della ministra Carfagna l'agitazione del mondo balneare è sempre più evidente nelle Marche la situazione è incandescente come fa trasparire del resto il governatore Francesco Acquaroli sono molto preoccupato dell'applicazione della direttiva Bolkestein rispetto al tema delle concessioni balneari il rischio è che si precluda irrimediabilmente il futuro di un'intera categoria che ha investito fidandosi delle regole e le leggi dello Stato e che ha permesso alle nostre spiagge di diventare un traino per l'utilismo italiano parole dure che fanno capire l'importanza della posta in gioco non possiamo rischiare che questo enorme patrimonio venga messo in pericolo per questo sarebbe importante tentare l'impossibile per evitare questa deriva iniziando dal verificare per il tramite della mappatura delle spiagge la reale scarsità della risorsa presupposto per l'applicazione della direttiva stessa a tutela di tutto il settore oltre che degli imprenditori e delle famiglie italiane e questa dunque era la nostra ultima notizia per questa mattina io mi fermo qui ma vi ricordo che ovviamente gli aggiornamenti e le notizie tornano nell'arco delle prossime edizioni quindi ancora una volta grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.